Il carcere d'Imperia va chiuso e bisogna costruire una nuova struttura. Questo è quanto dichiarato ieri sera nel corso della trasmissione Microfono Aperto di Imperia TV. Dal segretario nazionale della SAP, sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria, ha donato Capece. Secondo Capece ci sarebbero anche i fondi a disposizione per procedere in questo senso. Lancio da qui una proposta che io rappresenterò al Ministro. Chiudiamo questo carcere. È fattiscente. Quello di Imperia è fattiscente. Si spendono risorse aggiuntive ancora, ma l'ambiente è un ambiente fattiscente. Individuiamo un sito nell'area circondariale di Imperia, ci sono i fondi, costruiamo un carcere la cui capienza non superi i 300 posti letto. Anche perché Imperia, dopo la chiusura di Siavone, è diventato circondariale. Così, netto, qui arrivano tutti gli arrestati. Se Sanremo è diventato una cassa di reclusione, è diventato un carcere dove ci sono coloro che hanno appena definito di scondare, quindi Imperia raccoglie tutti gli arrestati. Allora, facciamo un carcere adeguato, la Comune di Imperia sicuramente troverà un sito, l'amministrazione, il governo, i tecnici troveranno le risorse finanziarie e si può costruire un nuovo carcere. Certo, noi chiudiamo, non è che diciamo chiudiamo il carcere come hanno fatto a Savona in attesa del progetto. Prima facciamo il progetto, individuiamo il sito dove costruirlo, i tempi tecnici per poterlo fare, oggi 3, 4, 5 anni, spendendo 30, 40 milioni, si può fare un carcere moderno strutturalmente all'avanguardia. Lei dice che i fondi ci sono. I fondi ci sono sicuramente, così come ci sono per Savona, li possiamo trovare anche per fare un carcere nuovo e moderno ad Imperia, dove eliminiamo la gente che porta 4 o 5 chiavi d'ottone in mano che vanno ad aprire i cancelli, ma automatizzando i cancelli si può ottimizzare il personale e possiamo dare una dignità anche a colui che viene arrestato. La sentenza della Corte di giustizia europea nella causa inerente alla proroga al 2020 delle concessioni per gli stabilimenti balneari, attesa da tutti gli addetti ai lavori per il prossimo autunno, sarà invece molto probabilmente depositata giovedì 14 luglio. L'ha fatto sapere Bettina Bolla, presidente nazionale di Donne da Mare, che chiama a raccolta tutti i titolari di concessioni. Vediamo. La sentenza della Corte di giustizia europea nella causa inerente alla proroga al 2020 delle concessioni per gli stabilimenti balneari, attesa da tutti gli addetti ai lavori per il prossimo autunno, sarà invece molto probabilmente depositata giovedì 14 luglio. Lo ha fatto sapere Bettina Bolla, presidente nazionale di Donne da Mare, che reagisce in modo duro alla notizia, chiamando a raccolta tutti i colleghi e i politici che finora sono stati dalla parte dei balneari. La Bolla ha evidenziato che la notizia della sentenza attesa per il prossimo autunno, ma che molto probabilmente arriverà in piena estate, quando gli operatori balneari sono impegnati nelle loro aziende e quindi impossibilitati a reagire, fa capire, se ancora ce ne fosse bisogno, le reali volontà. Vale a dire distruggere il sistema balneare che produce ricchezze da lavoro in nome di leggi europee applicate in modo diverso da paese a paese. Secondo Bettina Bolla il governo ha assistito in modo passivo a tutto questo, non normando l'intero sistema demaniale italiano, così come più volte richiesto dai balneari e dalle associazioni sindacali, attendendo la sentenza che dal parere dell'avvocatura generale precedentemente espressa non sarà sicuramente a favore degli attuali imprenditori balneari, mettendo così a rischio la proroga al 2020. La Presidente di Donne d'Amare invita pertanto tutti gli operatori a lavorare con i politici che finora si sono dimostrati a favore della categoria, cercando anche il sostegno delle regioni. Nuovo colpo di scena per Banca Carigia. Il Consiglio di Amministrazione ha infatti deciso di agire in giudizio nei confronti dell'ex Presidente Cesare Castelbarco Albani e alcuni dirigenti. Al centro della questione l'accessione del ramo assicurativo di Carigio, in particolare in un servizio. Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carigia e Spacas di Risparmio di Genova Imperia ha deliberato di agire in giudizio nei confronti dell'ex Presidente Cesare Castelbarco Albani, di Piero Montani, ex amministratore delegato, e di alcuni soggetti del gruppo Apollo per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'accessione delle partecipazioni di Carigio nelle compagnie di assicurazioni ed altri comportamenti successivamente tenuti dai soggetti dello stesso gruppo Apollo. In una nota si legge che la decisione del CDA di Carigio è ritenuta duverosa per tutelare gli interessi della società, dei suoi stakeholder, in primis le migliaia di azionisti. La decisione è maturata a seguito di una approfondita analisi delle cause che hanno nel recente passato negativamente influito sui risultati economici e sulla vita della società. Tale analisi è stata svolta nell'ambito delle attività di ricognizione effettuate dai nuovi amministratori in merito alla situazione della società, sia in funzione dell'elaborazione del nuovo piano industriale che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro il corrente mese. Scatta anche quest'anno con l'arrivo dell'estate dei turisti l'operazione mare sicuro della Capitaneria di Porto. Anche nell'imperiesi i marinai della Guardia Costiera saranno impegnati fino a metà settembre in controlli rafforzati, volti soprattutto a garantire la sicurezza in mare, come ci ha spiegato il Comandante Luciano Pischietta. Comandante Pischietta, al via l'operazione mare sicuro, il che significa che la nostra Guardia Costiera, la Capitaneria di Porto, l'Imperi, anche l'Ufficio Circonario di Sanremo, sarete impegnati sulla terra e nel mare per un'estate sicura. Sì, è così anche quest'anno prendere via l'operazione mare sicuro che durerà fino al 18 settembre. Nel compartimento marittimo, che sostanzialmente è la provincia di Imperia, noi avremo una cinquantina di militari dedicati a questo servizio, sia a terra che a mare. Avremo tre vedette, due gommoni veloci e tre o quattro autovetture che serviranno da supporto a queste unità. durerà, come dicevo, fino al 18 settembre. In questo periodo sarà massimo lo sforzo della Capitaneria per assicurare la sicurezza della balniazione, la protezione dell'ambiente marino e la tutela della filiera ittica. Repressione, ma anche e soprattutto prevenzione. Controlli volti alla sicurezza vuol dire anche cercare di trasmettere la cultura della sicurezza. Anche in questo siamo abbastanza impegnati, aumenteremo i controlli sull'aspetto soprattutto della sicurezza. Naturalmente contestuale all'operazione mare sicuro c'è il bollino blu e con quest'altro aspetto dell'operazione mare sicuro, con il rilascio del bollino, noi avremo modo di verificare direttamente i diportisti e quelli che sono pienamente in regola, quelli che sono rispondenti alle norme del regolamento sulla sicurezza, avranno rilasciato questo bollino blu che gli consentirà di non essere nuovamente sottoposti al controllo. Quel momento è anche un momento per dialogare, per capire, per fare prevenzione. Lo stesso faremo a terra con gli stabilimenti balneari. Un numero importante, un numero che può salvare la vita, 15-30 a livello nazionale. Il 15-30 è il numero blu, il numero di emergenza in mare, che consente il dialogo diretto con le Capitanerie di Porto e consente quindi l'immediata attivazione dei servizi di soccorso per l'emergenza in mare. Proprio per questo è importante che venga usato soltanto nei casi di reale emergenza e che non venga usato per alto, ma soltanto per segnalare situazioni di potenziale pericolo e di pericolo effettivo per la vita umana in mare. Affittare i locali sfitti del centro anche solo per il periodo estivo al fine di creare nuovi punti vendita è la proposta anticrisi varata dalla Comune di Ormea in collaborazione con una agenzia immobiliare. Sentiamo. Affittare i locali sfitti del centro anche solo per il periodo estivo al fine di creare nuovi punti vendita per il periodo di maggior afflusso turistico. È la rivoluzionaria proposta anticrisi varata dal Comune di Ormea, in particolare dal sindaco Giorgio Ferraris in collaborazione con la filiale locale dell'agenzia immobiliare Tecnocasa. L'obiettivo è quello di riempire diversi locali che la crisi ha lasciato da tempo vuoti nella centrale Via Roma. Amministrazione comunale e agenzia immobiliare ne hanno individuati una decina e sono pronti a mettersi a disposizione gratuitamente di chi vorrà avviare un'attività commerciale anche soltanto per un paio di mesi nel corso dell'estate. Gli affitti saranno popolari con cifri che non superano i 600 euro e che aderirà all'offerta, così come i commercianti già operanti nel centro di Ormea, potrà giovarsi anche delle diverse iniziative e manifestazioni che verranno organizzate nel corso dell'estate per attirare e intrattenere i turisti. Il latte nell'alimentazione degli sportivi. Questo è il tema affrontato dal nutrizionista Stefano Beschi, ieri sera al frantoglio Giromera davanti a una platea formata da dirigenti e atleti delle maggiori associazioni sportive imperiesi. L'iniziativa rientra nelle attività divulgative e culturali promosse da Latte Alberti. Matteo Alberti, siamo al secondo step, secondo incontro di questo breve ciclo sull'alimentazione. Penso che poi eseguiranno altre iniziative, questa volta il latte e lo sport. Come abbiamo già detto, l'appetito viene mangiando, quindi sicuramente non sarà l'ultimo incontro, anzi penso proprio che sarà l'inizio di una serie. Questa volta ci concentriamo su quello che è il rapporto tra l'alimentazione, tra una corretta alimentazione e una corretta attività fisica, sportiva, in particolare per chi lo pratica a livello professionale. Ecco, un invito rivolto a chi fa sport, ma un invito anche a chi comunque è all'interno delle associazioni sportive, anche magari con ruoli dirigenziali, perché si tratta qui di fare cultura più che fare sport in sala. È proprio così, noi collaboriamo periodicamente, di frequente, con tante associazioni sportive del territorio. Abbiamo qui per esempio una rappresentanza della Maurino Lio Carli, della Rarinantes e degli Arcieri, quindi sono diverse le società sportive con le quali collaboriamo e siamo ben contenti di rivolgere a loro questo incontro. Ecco, dottor Stefano Beschi, nutrizionista, consulente dell'Alberti, parla non solo di latte nell'alimentazione dello sportivo, ma anche di timing dello sportivo. Che vuol dire? Certo, perché l'alimentazione nello sport non è estremamente differente da quella che dovrebbe essere la corretta alimentazione un po' per tutta la popolazione. È proprio importante individualizzare, a seconda dello sport che uno pratica, quando e cosa mangiare in funzione dell'attività fisica praticata. Da questo punto di vista vedremo poi oggi come il latte è un alimento che può avere un ruolo veramente importante, soprattutto per il recupero post-attività fisica. Il quando mangiare vuol dire che non esiste solo colazione, pranzo o cena, in termini canonici? Anche i spuntini, diciamo, pre-post-gara o pre-post-allenamento sono importanti, soprattutto poi saperli inserire in giornate spesso, senza parlare di professionisti, di ragazzi magari che vanno a scuola, che fanno sport, e quindi dove gli orari sono spesso molto intensi, quindi gli appuntamenti sono molto intensi, quindi organizzare anche la giusta alimentazione non è spesso semplice. Giusta alimentazione vuol dire capire se servono carboidrati piuttosto che proteine o grassi? Facendo riferimento anche alla domanda che ha fatto prima, penso che sia fondamentale passare una buona informazione anche a chi fa dirigenza, piuttosto che agli allenatori, perché secondo me a questi livelli, soprattutto amatoriali, lo sport deve essere prima di tutto educare i ragazzi. È un momento di formazione, un momento di cultura, parallelo se vogliamo alla scuola, e quindi l'alimentazione ha sicuramente un ruolo importante, fa parte della crescita del ragazzo e dell'atleta, poi se diventerà un campione, benissimo, ma intanto diamogli la possibilità anche di avere tutti gli strumenti per poter sfruttare al meglio quelle che sono le sue qualità. I rappresentanti dell'alleanza cooperative Liguri hanno espresso forte preoccupazione per la chiusura del mercato ittico di Genova per un mese in attesa del trasferimento in una nuova sede di Cadepitta. Il timore è che la chiusura del mercato di Piazza Cavour comporti una gravissima perdita per il mondo della produzione ittica Ligure in un momento già difficile per tutte le imprese del comparto e non si comprende come mai l'amministrazione non abbia atteso che la nuova collocazione fosse già operativa. La strada che conduce Ammoni si è stata chiusa questa mattina dalla provincia senza che nessuno sia stato avvisato. A quanto sembra, la chiusura sarebbe legata ad una frana presente nella zona da ormai due anni. Stando a quanto si è appreso in via informale, lunedì i tecnici provinciali dovrebbero recarsi sul posto per verificare gli interventi da attuare. La chiusura improvvisa ha provocato proteste da parte degli operatori turistici della zona, dei titolari di esercizi commerciali e dei proprietari case che si ritrovano a dover affrontare notevoli disagi proprio nel pieno del periodo turistico. Dopo due anni di attesa sembra infatti assurdo che si decida di fare un intervento proprio nell'unico periodo dell'anno in cui le attività della zona possono lavorare grazie alla presenza dei turisti. Un tragico incidente avvenuto la scorsa notte a Costa Rai Nera lungo l'Aurelia ha costato la vita Carlo Ravera, 56 anni, dipendente dell'AMAT in Periese e residente a Costa Rai Nera. L'uomo a quanto sembra sarebbe caduto dal suo scooter, sarebbe quindi stato travolto da alcune auto e cui i conducenti non sono riusciti ad evitarlo. Per lui purtroppo ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Certamente sul sinistro sono in corso da parte dei carabinieri di Sanremo. I poliziotti della squadra mobile della questura d'Imperia hanno arrestato un ladro seriale. L'uomo è infatti ritenuto responsabile di almeno nove furti messi a segno in altrettanti negozi e bar del centro di Porto Movrizio. I colpi avvenivano sempre in ore notturne, quando fra l'altro il presunto responsabile avrebbe dovuto essere a casa a seguito degli obblighi di sorveglianza speciale cui era sottoposto per altri precedenti di polizia. I carabinieri della Compagnia di Sanremo agli ordini del capitano Paolo De Aliscandris nell'ambito dell'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella città dei Fiori che dall'inizio dell'anno ha portato a decine di arresti di spacciatori. Ieri pomeriggio hanno fatto scartare le manette e i polsi di un altro spacciatore. L'arrestato è un nordafricano sorpreso alla guida di un'ambulanza francese nella quale aveva occultato due involucri di eroina. Lo straniero è stato colto in fragranza mentre cedeva una dote di droga ad un cittadino francese nei pressi della vecchia stazione ferroviaria di Sanremo. Nei giorni scorsi si è tenuta in Comune d'Impero una giornata di formazione in materia di anticorruzione in attuazione al piano della formazione approvato dalla Giunta Comunale qualche settimana fa su proposta del segretario generale Rosa Puglia si è responsabile della prevenzione della corruzione del Comune. La giornata di formazione ha avuto come destinatari dirigenti e titolari di posizioni organizzative del Comune. Con il supporto di esperti della materia è stata affrontata la cosiddetta mappatura dei processi con lo scopo di analizzare i rischi della corruzione. Ora facciamo una breve pausa ma ci sentiamo subito dopo. Nell'ambito dei festeggiamenti di San Giovanni e lo svolgimento dell'Imperio Neglia fra gli stand è presente anche il Rifugio La Cuccia. I volontari del Rifugio hanno avviato una raccolta fondi per sottoporre ad un'operazione un cane con gravi problemi di salute. Vediamo. Noi siamo del Rifugio La Cuccia siamo tantissimi volontari siamo 50 e abbiamo bisogno sempre più di mani di forza perché abbiamo bisogno di tutto dal cibo, dalle medicine dall'aggiustare le gabbie ci sono dei ragazzi che ci aiutano però più mani abbiamo, più braccia abbiamo, meglio è. Abbiamo parecchi cani tuttora sono 26-27 e abbiamo un problema grosso questo cane che abbiamo messo sul nostro cartellone perché deve essere operato deve subire un'operazione non indifferente a una zampa posteriore e quindi noi abbiamo quest'anno avuto l'idea di, veramente l'ha avuta Aurora che è una nostra, è la pensatrice del gruppo che dobbiamo fare una lotteria per cercare di avere il più denaro possibile per poter operare questo cane. Poi il nostro volontariato non consiste solo nel diciamo nell'accudire i cani ma ci organizziamo facciamo banchetti facciamo fiere facciamo tutto quello che possiamo nei Conad a Natale in tutti i supermercati per poter raccogliere il più possibile per il nostro canele. Questa sera appunto qui c'è di tutto abbiamo guinzagli abbiamo la gente si può sbizzarrire come vuole abbiamo le magliette che ci rappresentano tutti e ecco che dire tutti quelli che arrivano e che ci danno un contributo per i nostri ragazzi pelosi come li chiamiamo noi sono sono benvenuti. Scade il 30 giugno alle 14 il bando di servizio civile nazionale per 654 volontari assegnati alle ACLI e che prenderanno servizio nelle sedi dell'associazione in tutta Italia e in vari paesi del mondo. Per la sede di Imperia è attivo il progetto tutti a bordo per la riduzione della dispersione scolastica per informazioni in merito alla domanda per il servizio civile è possibile rivolgersi presso gli uffici ACLI di Imperia in via Schiva. Abbiamo a cuore la tutela della produzione agricola del nostro territorio in particolare quella olivicola particolarmente minacciata dallo storno che nello scorso anno ha provocato danni per circa 105 mila euro ad imprese in 51 comuni per un totale di circa 300 segnalazioni. Così ha detto l'assessore regionale dell'agricoltura e alla caccia Stefano Mai annunciando che dal 25 settembre al 15 dicembre sarà attivata nei 187 comuni Liguri dove si pratica l'olivicoltura la caccia in deroga allo storno. Torna anche nell'estate 2016 un sogno chiamato 4.000 racconta l'immagine della cavalcata lungo 30 cime 4.000 delle Alpi curato dall'alpinista imperiese Stefano Sciandra socio del club 4.000 due gli appuntamenti sabato 16 luglio alle 17 al rifugio Pian della Regina ai piedi del Monviso e sabato 23 luglio alle 21 con la partecipazione di Marco Bermasse a Frabosa Sottana nella sala convegni albergo Italia nell'ambito del salone del libro. Per Sciandra l'obiettivo principale dell'estate 2016 sarà quello di cercare di avvicinarsi a quota 41 la metà di tutti i 4.000 delle Alpi ufficialmente riconosciuti. Appuntamento dall'8 al 10 luglio a 20 miglia per la quarta edizione del torneo di calcio a 5 la manifestazione sportiva si terrà presso il campo Morel a Peglia le partite si giocheranno il venerdì e il sabato dalle 19 alle 3 di notte e la domenica dalle 17 alle 24 previsti anche alcuni premi speciali come il fair play il miglior giocatore e il miglior portiere e il miglior canoniere si svolgerà nella seconda metà di settembre in Vicia Sanremo dopo l'inizio dell'anno scolastico la pedalata in sicurezza sospesa a causa del maltempo sarà l'occasione per i giovani ciclisti di cimentarsi in questa passeggiata non agonistica accompagnata in tutta sicurezza dagli operatori del corpo e di polizia municipale sulla pista ciclabile fino ad armaditaggia e ritorno è iniziato anche il countdown per l'appuntamento più atteso dell'anno dei 500 centisti il 33esmo meeting internazionale di Fiat 500 l'evento si darà a Garlenda l'1,2,3 luglio sono attese oltre mille Fiat 500 storiche l'organizzazione promette un lungo weekend ricco di eventi l'edizione di quest'anno è dedicata al Giappone che sarà ospite d'onore bene ora gli appuntamenti di Riviere 20 i cantieri sono 8 fiori e il quadro meteo e il quadro che si tratta I cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 Savora, confine di Stato tra Imperia Ovest e Arma di Taggia cambio di careggiata per lavori di adeguamento sismico al viadotto Taggia da lunedì 14 a domenica 19 giugno anche notturno Direzione Genova, careggiata Sud tra Arma di Taggia e Imperia Ovest careggiata doppio senso per lavori sulla careggiata opposta da lunedì 14 a domenica 19 giugno anche notturno Vediamo il quadrometro di Arpa e Metri di Guglia domani è domenica 19 giugno la giornata sarà instabile caratterizzata da spiccata variabilità con schiarità alternate ad addensamenti anche consistenti su tutta la regione possibili rovescio temporale anche di forte intensità localmente associati a forti colpi di vento tali fenomeni risultano al momento più probabili sul centro levante umidità su valori medio-alti venti in prevalenza deboli o moderati di direzione variabile in serata netta rotazione dei quadranti settentrionali e generale rinforzo il mare è generalmente mosso in calo fino a poco mosso a ponente la protezione civile segnala bassa probabilità di temporali forti dopo domani lunedì 20 giugno l'allontanamento del nucleo di aria fredda in quota seguito dalla rimonta dell'alta pressione da ovest favorisce il graduale ritorno a condizioni più stabili con api schiarite su buona parte della regione locali addensamenti come uniformi sui rilievi nell'interno nelle ore più calde della giornata umidità su valori medi in aumento i venti al mattino deboli o moderati settentrionali al pomeriggio deboli meridionali localmente di direzione variabile il mare sarà poco mosso localmente mosso sull'estremo levante al mattino ed è tutto grazie per averci seguito l'appuntamento come sempre è tornato alle prossime edizioni potete seguirci anche sul nostro sito imperativo.it su profili facebook e twitter grazie dell'ascolto buona serata e buona domenica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti